Il generale Manzhen, attenti! L'Austria, vecchia alleata, chiede solo che sia neutrale, ma l'intesa rilancia. Son tanti i due lotti a me d'intorno, che potrei formarvi un reggimento. Son tutti caldi come un panno nel forno, e per avermi vengono a cimento. Son tanti i due lotti a me d'intorno, e per avermi vengono a me d'intorno, e per avermi vengono a me d'intorno. Son tanti i due lotti a me d'intorno, e per avermi vengono a me d'intorno. Son tanti i due lotti a me d'intorno, e per avermi vengono a me d'intorno, e per avermi vengono a me d'intorno.